Di avere maggiore economia di scala e quindi avere maggiore capacità di spesa futura che poi vuol dire riversare sui cittadini comunque migliori servizi per il sociale, per l'ambiente, per le scuole e via dicendo. Un'iniziativa coraggiosa, così viene discritta la mozione presentata dalle minoranze del comune di Cornuda e accettata dall'intera amministrazione che vede proposta l'ipotesi di fusione con il vicino comune di Crocetta, già uniti nel passato e divisi nel 1902. Abbiamo la stessa popolazione, gli stessi indici demografici, gli stessi rapporti anche di dipendenti, di indebitamento e via dicendo. Quindi non è che sia un comune che può privilegiare nessun altro ma potrebbe essere rispetto a tante altre realtà un rapporto alla pari. La fusione che sicuramente renderebbe la struttura più snella potrebbe però comportare difficoltà a livello organizzativo delle due macchine amministrative. Mettendo in evidenza una disparità di flussi di capitale in entrata nelle casse comunali e nelle capacità di spesa da parte dei comuni nell'attuazione delle opere pubbliche, temi cui stanno molto a cuore al sindaco di Crocetta. Bisogna mettere sulla tavola, creare una struttura in grado di valutare quelle che sono le effettive spese che hanno e che avranno i due comuni, le introiti che hanno e che avranno i due comuni, le loro problematiche e poi ragionare in un'ottica complessiva. Un invito pertanto alla comunicazione con la possibilità che questa fusione avvenga realmente in futuro. Le progettualità e le necessità che hanno i territori vanno stimate.